buongiorno bellezze mie come state allora sono già non so se sono due o tre giorni che non registro finalmente voglio bene io vado a reggioro quartuccio se la mia preferita come anche debora stoppazzolo vabbè vanessa van Gogh che è dedicato comunque tutti voi anche i maschini allora non mi ricordo che mi piace tanto che adoro perché è toscana e la bambina ma i cresciuti io adesso che dire vado a restaurarmi un po no più che altro film ho visto trasmissioni televisive di dritto e rovescio questa roba qui è perché ho il labbro spaccato mi sto mettendo ultimamente poco puro a fare però per adesso mi devo guardare la faccia perché così sono veramente troppo sfatta mi devo ridere qui a questa parte direttamente in bagno ah non mi parte la mia la routine è sempre la stessa ma casomai se cambia idea allora dunque mi sono appena lavata la faccia mi devo vestire perché vedete che sono così sono ancora in pigiama quindi io vedrò un po cosa vestirmi abbigliamento mi sto questo questo pantalone che ho già da ieri per andare alla maddalena ecco aspettate un secondo giro allora oltre a questo pantalone che voglio mettere voglio mettere voglio mettere se trovassi dove quell'altro ecco non lo trovavo il qua questa maglia qua che è tutta piegata male ma era perché quindi non avevo voglia di avere tutto ordinato per domani cioè per oggi quindi ecco qua questo è il risultato di quello che trovate oggi stamattina nulla resterò così per adesso con queste scarpe cioè con questi pantofole a cuoricini però il pigiama almeno me lo tolgo ok nulla questa è come qua ora mi sono bella vestita si lo so che non è messo non è messo bene ho fatto quello che ho potuto più o meno questo è il mio bel outfit aspetta un secondo ok tutto a posto quindi questo è come sono vestita stamattina si diciamo ho fatto un fretta e furia visti lui sì lo so che sono vestita con le pantofole ci vogliono le scarpe ma in questo momento sono in casa poi se esco casomai faccio tutto come dico come dire da fare però volevo fare altri video e se riesco li faccio proverò a fare altri video magari faccio qualche video tag che ne dite perché sto vedendo molte ragazze di youtube che fanno tantissimi video si tag recensioni e altro ancora va bene dai a doppio magari sulle recensioni di prodotti che mi piacciono che mi piacciono a me e anche quelli che ancora non ho avuto tanto modo di capire se sono validi o meno quindi vediamo se riesco a fare l'idea perché i video sono tanti ma proviamo mi sposto vi dicevo anche se non ha senso io lo voglio fare perché mi diverte e adoro fare questi video lo serve però io mi vedo un po boh si avete capito bene mi sento strana stamattina non capisco perché e lo so che capita ma curiosa che oggi il video lo qua perché già non so cosa sta succedendo ma questo telefono è strano mi si chiude ogni due per tre quindi mi tocca di registrare in tante parti e non lo so se perché ho messo la memoria la scheda di memoria che troppo corta o non ho idea perché prima funzionava questo telefono adesso non so cosa no è lo xiaomi mi telefono parlo allora è questo qua lo xiaomi mi questo xiaomi lite 5 xiaomi 11 vedete è nulla questo è quanto bene a dopo un altro video ciao mettete like commentate iscrivetevi attivate la campanella